Buon sabato 9 dicembre. La testimonianza di Gesù è in un perseverante cammino e questo ci spinge a essere noi stessi pellegrini su questa terra, a renderci disponibili ad accogliere l'invito del veniente e portare la nostra disponibilità a metterci al servizio perché c'è grande bisogno di una nostra disponibilità, di ciascuno e di ciascuna. Quindi ascoltiamo il Vangelo di oggi proprio all'insegna di questo tempo di avvento nel quale siamo richiamati e chiamati a vivere intensamente il tempo dell'attesa. Non è un'attesa passiva, è un'attesa attiva, in costante cammino e ricerca, in disponibilità. Appunto, al servizio nei confronti dei tanti bisogni che ci sono su questa nostra amata terra. Gesù guarisce, Gesù accoglie, Gesù è misericordioso, Gesù predica, trasmette la sua parola e afferma anche che c'è molto bisogno di persone che, anche loro, accolta la parola di Gesù, si facciano testimoni di quella esperienza che ogni giorno deve costantemente essere rinnovata. E lo so, non è facile essere disponibili. Abbiamo tantissime giustificazioni per dire sì, lo farei volentieri, ma non ho tempo. No, c'è urgenza immediata nel qui ed ora di essere protagonisti, testimoni di una funzione di servizio nei confronti del prossimo per la costruzione del bene comune, per costruire una dimensione esistenziale all'insegna della misericordia, della pace e della giustizia, che sono generate queste realtà della vita, da accoglienza dell'amore che è dono e grazia che noi abbiamo ricevuto dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù percorreva tutte le città e villaggi insegnando nelle loro sinagoge, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Annuncio, insegnamento e guarigione sono tutte espressioni dell'infinito amore di Dio nei confronti del creato. Vedendo le folle ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Vede le folle, le vede disorientate, stanche e sfinite, non c'è un pastore, c'è bisogno di pastori. Anche oggi più che mai c'è questo bisogno intenso di pastori. Abbiamo molti dominatori fin troppi, presuntuosi, che vogliono appropriarsi della terra e del prossimo. Abbiamo bisogno di pastori che si mettano al servizio, non di dittatori che comandino. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore delle messe, perché mandi operai nella sua messe, nel suo creato, mandi operai al servizio del creato. chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. E li inviò, ordinando loro, rivolgetevi alle pecore perdute della causa di Israele, alle pecore perdute, in primis. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino, è nella prossimità, non in qualche luogo astratto, è vicino. Guardite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gratuitamente, fatelo senza aspettative di gratificazione. Fatelo con la generosità, perché abbiamo ricevuto. gratuitamente e senza aspettative, nonostante i nostri demeriti, la grazia della misericordia e dell'amore di Dio, e altrettanto noi dobbiamo fare nei confronti degli altri. Gratuitamente significa senza aspettative di essere gratificati, di essere esaltati per la nostra generosità, con molta semplicità, senza aspettative. Così Papa Francesco si esprime commentando il Vangelo di oggi all'Angelus del 18 giugno del 2023. Predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino, questo sottolinea per primo Papa Francesco. È lo stesso annuncio con cui Gesù ha iniziato la sua predicazione, il regno di Dio, che cioè la sua signoria d'amore, una signoria d'amore. Questo significa il regno di Dio. Si è fatto vicino, viene in mezzo a noi. E questa non è una notizia tra le altre, ma la realtà fondamentale della vita non è una notizia da raccogliere sui media. È la realtà stessa della vita, la vicinanza di Dio, la vicinanza di Gesù. Infatti, se il Dio dei cieli è vicino, è vicino, noi non siamo soli in terra e anche nelle difficoltà non perdiamo la fiducia. Lo ripeto ancora perché questo passaggio che Papa Francesco sottolinea ci deve riempire di coraggio e generosità la vicinanza di Dio, la vicinanza di Gesù. Infatti, se il Dio dei cieli è vicino, noi non siamo soli in terra. E dunque anche nelle difficoltà non perdiamo la fiducia. Quante volte ci sentiamo sfiduciati di fronte alle tante tragedie del mondo? Ecco la prima cosa da dire alla gente. Dio non è distante. È padre. Questo è il punto fondamentale. È padre, non dominatore. Annunciare che Dio è vicino. Questo è il punto fondamentale. Ma come farlo? Nel Vangelo Gesù raccomanda di non dire tante parole, ma di compiere tanti gesti di amore e di speranza nel nome del Signore, non nel nostro nome. Non dire tante parole, ma compiere gesti, concrete azioni di condivisione, di accoglienza. Guarite gli infermi, dice. Risuscitate i morti, sanate i lebrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto. Gratuitamente date. Ecco il cuore dell'annuncio, la testimonianza gratuita, il servizio nella gratuità, che ripeto ancora non ha nulla a che vedere con la ricerca di una gratificazione egocentrica. Buona giornata a tutti e a tutte.